Adesso, quindi lei dovrebbe chiedere la votazione per parti separate, votando adesso la parte che incide sull'articolo 4 e votando domani, quando proseguiremo, perché presumo che sarà domani, con l'articolo 5. Però noi non potevamo dividere l'emendamento, perché l'emendamento dell'onorevole Segoni, in origine, era già, conteneva già, entrambe queste parti, e quindi non spettava la Presidenza dividere in due parti diverse, distinte. Se lei fa la proposta, la Presidenza l'accoglie. Ok? Bene. Allora, noi votiamo a questo punto dell'emendamento 4.50, votiamo solo la parte principale, riferita all'articolo 4, e non la parte conseguenziale, che invece sposteremo ulteriormente quando arriveremo all'articolo 5. Allora, metto in votazione, con il parere favorevole di Commissione, Governo e dei relatori di minoranza, a questa formulazione del 4.50. È aperta la votazione. Nicchi. Nicchi. Ci siamo, vero? Pagano in arrivo e poi chiudiamo. Bene, è chiusa la votazione. Oh, mi scusi, Rabino, ma stava lì da un pezzo. Non vedo niente, perché vedo tutto. La Camera approva. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 4. È aperta la votazione. Marzano. Marzano. Ci siamo? De Maria. Tripiedi. Pastorino. Ok. Tripiedi a posto, Pastorino pure. Non vedo altri. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora agli emendamenti aggiuntivi. 4.01. Russo. Parere contrario di Commissione, Governo e relazione.